Potrebbe esserci la mano dell'uomo dietro il pauroso incendio divampato ieri mattina nella zona di Baia San Felice a Vieste. Una pista più che concreta secondo la procura di Foggia che presto potrebbe aprire un fascicolo di inchiesta per fare luce sulle cause del rogo. Il reato ipotizzato è di incendio doloso a carico di gnoti. I carabinieri forestali nelle ultime ore hanno effettuato alcuni sopralluoghi nella zona interessata dalle fiamme e consegneranno alla magistratura l'informativa sulle prime indagini. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella che è il rogo si è partito da un campeggio abbandonato che si trova a pochi chilometri dalla città garganica e potrebbe essere stato appiccato da qualcuno. Intanto la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Si sono concluse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco intervenuti assieme agli operatori di L'ARIF, protezione civile e volontari. Sono in corso gli ultimissimi controlli per verificare la presenza di piccoli focolai e bonificare l'area. Allarme è rientrato dopo che a lungo si era temuto il peggio quando le fiamme avevano lambito ieri mattina un campeggio della zona facendo scattare il piano di evacuazione. Rientrati nelle strutture turistiche anche i circa 2000 villeggianti che ieri pomeriggio erano stati costretti a lasciare tre grandi alberghi per ragioni di sicurezza. Alcuni di loro sono stati ospitati la notte scorsa nelle palestre di due istituti scolastici di Vieste allestite dall'amministrazione comunale. I villeggianti potranno proseguire regolarmente la loro vacanza. È partita intanto la conta dei danni al patrimonio naturalistico del territorio con il fuoco che avrebbe mandato in fumo oltre 200 ettari di macchia mediterranea.